Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Heroes of the Storm in questo video utilizzerò Deckard nella mappa Valle Maledetta vi auguro buona visione va bene ragazzi ci troviamo al Valle Maledetta e diamo un'occhiata alle due squadre nel nostro team Deckard, Asmodan, Jaina, Sonya e Anubarak contro Zarya, Zagara, Joanna, Lucio e Gul'dan ok vediamo un po' attualmente ragazzi sono in live su Twitch quando sto facendo questa cosa quindi se mi sentirete un pochettino parlare anche con la chat o roba del genere se magari c'è qualcosa in particolare tipo da ringraziare qualcuno lo faccio volentieri e senza problemi in generale sto facendo questa piccola partita così con Deckard che è ancora un personaggio che non conosco tanto bene il che dà anche inizio un po' a una serie di partite dove farò solo ed esclusivamente quick match dove cercherò di... non dico di giocare per forza il personaggio che non conosco cioè comunque cercherò di giocare anche Royal Random comunque quello che mi va sul momento e magari ve lo porterò se la partita vale la pena guardarla perché effettivamente sto pensando che le guide per riprendere sarà un po' un problema perché verso luglio comunque in questi mesi dovrebbero arrivare svariati rework a molti personaggi ovviamente sappiamo già di Raynor però ce n'è tanti altri che riceveranno qualcosa di nuovo quindi sarebbe bene aspettare qualche periodo giusto per sicurezza mamma mia non ci sono arrivato purtroppo con quella pozione e poi riprenderò magari a fare le guide da zero cioè proprio riprenderemo completamente tutti i personaggi magari dando anche priorità non per forza a quelli reworkati ma dando priorità a quelli là che quasi sicuramente non verranno reworkati cioè per esempio metterei in coda o comunque tra gli ultimi Artanis e Illidan che sono quelli là messi peggio come kit potremmo dire perché effettivamente non è stato annunciato nessun tipo di rework per loro in particolare anche se ne hanno nettamente di bisogno comunque fatta questa piccola spiegazione cercherò di parlarvi almeno un pochettino di che cosa fa di base questo personaggio e magari cercherò di giustificare tra virgolette di spiegare perché sto facendo determinate scelte di talento cosa che comunque si può cambiare sempre in base allo stile devo essere sincero un pochettino mi pento già del talento a livello 1 che ho preso forse avrei preferito prendere la quest però vediamo vediamo come si evolve la partita comunque vediamo le abilità partiamo dal tratto il suo tratto è forza dei fedeli in pratica forza dei fedeli quando siamo vicini ad un eroe alleato riceviamo il 10% di resistenza e inoltre abbiamo anche un 50% di scorrimento dei tempi di recupero più veloci quindi è sicuramente una cosa buona cercare di rimanere abbastanza vicini purtroppo Deckard non attacca a distanza e utilizza il suo bastone è tipo un attacco molto molto lento che non serve quasi a nulla cioè o comunque non risulta molto molto potente la sua W il cubo radrico praticamente serve per rallentare i nemici dopo 0,5 secondi del 35% per 1,75 secondi mentre là è la pergamena della prigionia lo skillshot probabilmente è più lento che c'è attualmente su Ozzo mi sa forse giusto c'è sparachiodi mi stavo quasi dimenticando del suo laser il laserone però questo è particolarmente lento è uno skillshot anche molto particolare perché forma un triangolo oh mamma mia non voglio andare di qua non voglio andare di qua mi sa o comunque Stefano è riuscito a bloccare momentaneamente la cattura del tributo ma lasciamo perdere perché onestamente non ne vale la pena non abbiamo ruotato abbastanza velocemente oppure non so perché si stanno interrompendo lo stesso forse Asmodano in questo caso c'è Julian cercando di bloccarli comunque dicevo come funziona dopo 2,25 secondi partirà questo skillshot e se riesce a colpire qualcuno l'immobilizzerà per 1,75 qui ho fatto un piccolo errore che faccio molto spesso cioè utilizzo la gemma dopo aver utilizzato la W è un piccolo errore che faccio ovviamente involontariamente però chissà perché immagino che caspia la utilizzo adesso magari l'effetto funziona come funziona questa gemma? aumenta l'efficacia del rallentamento del 30% caspia ho lisciato un po' la pozione uh quella immobilizzazione su 4 persone non era male questi choke point sono fantastici per Deckard vediamo se riescano di mettere piano piano a posto Stefano sì possiamo farlo purtroppo il problema di Deckard è che le sue pozioni sì posso buttarne di più a terra quindi può arrivare un grosso burst però solitamente è abbastanza complicato da fare perché magari c'è qualcuno che passa al momento sbagliato piglia e frega quella pozione che poteva salvare magari quella persona da quella situazione un po' drastica ok per ora ho utilizzato la sua barriera magari proviamo a fare qualcosa ok l'abbiamo immobilizzato sto facendo più che altro pratica con i miei skillshot in questo caso allora abbiamo il tributo qui potrei provare a fare una cosa intelligente cioè preparare una zona dove abbiamo un buon numero di pozioni utilizzo intanto la gemma così da avere pronto comunque il prossimo rallentamento potente a livello 7 andrò per il cubo di canai che riduce al 30% i danni inflitti dagli eroi per quanto sono? 4 secondi quella pozione l'ho presa involontariamente comunque ne metterò un paio qui qui con il regalo prima di tornare studiare buona fortuna con la livex grazie Luke non so perché non stiano apparendo certi avvisi devo riuscire a scoprire per quale motivo succeda questa cosa però ti ringrazio comunque per il pensiero buono studio allora purtroppo la situazione è quella che è stanno facendo fight molto lontani dal tributo magari potevo anche prenderlo ma sono il support devo cercare di dare una mano ok cerchiamo di fare un po' di zoning mettiamo pozze qua e là purtroppo abbiamo perso ex con Jaina quindi abbiamo perso una buona fonte di danno cercando di lanciarle anche addosso direttamente ai miei alleati se è possibile considerate Deckard come una Lily che può mirare la sua cura ok qua sono rallentati a bestia quanti mezzi il dunk il dunk di Julian mette fine alla vita di Zagara nice purtroppo ragazzi non riesco a fare nemmeno lo stesso commentario di una volta non perché sia fuori allenamento ma perché con Deckard mi devo concentrare tantissimo ancora non sono proprio sicuro al 100% delle mie play e probabilmente ve ne accorgerete o comunque già ve ne sarete accorti perché vi accorgerete di tutto vediamo un po' nice già completata la quest in un timing abbastanza decente anzi più che decente direi 6 minuti quasi 7 non sono male per nulla soprattutto siamo quasi vicini alle 10 perché Zarya prova a utilizzare la sua barriera contro di me cioè letteralmente non faccio nulla di danno cioè comunque lì c'è la riduzione quanto sia potente comunque perché pure per uccidere un minion ci ha messo mezz'ora che abbiamo il prossimo tributo nella top lane in alto a sinistra abbiamo lo Stefano qui ci sono Sonia e Jaina lì sotto ho qualche impressione che abbia laggato lag sicuramente perché è praticamente rimasto bloccato immagino lag occhio abbiamo un avvicinamento Zarya ah ecco ho stato la barriera appena ho detto la praticamente comunque con un po' di delay lasciatelo stare lasciatelo stare questo tributo perché torano il 10 noi no non abbiamo purtroppo il 10 quindi non possiamo affrontare i nemici o comunque non abbiamo le nostre ultimate per poter fare un buon fight cerchiamo di prendere più che altro exp io purtroppo non posso nemmeno andare a fare un pochettino di shocking questa è una cosa bruttina perché letteralmente non posso fare nulla per quanto riguarda pulizia di ondata oh il FIAR è stato utilizzato intanto da cooldown ma penso che sia andato in soft cooldown a livello 10 andrò per 20 di saggezza ad apparentesi a livello 4 ho preso il talento che restituisce 10 di mana con le pozioni ok oh nice vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono altrimenti utilizzata oh volevo provare a prendere l'usio ma è stato usato il cocoon quindi è stata un po' sprecata niente ci ho provato a fare qualcosa ma letteralmente i miei danni sono ridicoli mmm vediamo un po' dobbiamo rallentare qui vuolo lo stordimento potremmo immobilizzarlo ma purtroppo la baria di zaria è un grosso problema da gestire non è una cosa da poco ma chi è che martella quest'ora what ok c'è anche giovanna dobbiamo fare un po' di attenzione magari potremmo provare a usare l'ornedo però c'hanno comunque zaria che può dare fastidio si hai ragione d'accordo ok immobilizzato zaria però troppo niente da fare vediamo se riusciamo ad usare un buon l'ornedo questa volta si riesco ad avvicinarlo ah un colpo di bastone magari un colpo di ligno come diciamo qui immobilizziamo doom yes la kill del d'accordo con la pergamena nice grazie sonia grazie per il bravo lo accetto volentieri qui ok si riusciva a fare quindi questo fight abbastanza bene lucio ovviamente mi sta distruggendo in cure perché butta anche la barriera e quindi in generale sommo e poi cura tutto il tempo io curo solamente a tratti sto parlando a curare ok dobbiamo cercare di fare un pochettino di exp perché abbiamo vinto questo fight sarebbe buono fare anche questo con la chat è fantastico quello che leggo intanto comunque torniamo a noi in questo momento finisimo un po' fk mi sa però in un bruttissimo punto proprio brutto forse vorrei che sia o un colpo di lago forse una chiamata tipo improvvisa e può capitare a tutti perché è proprio un punto un po' bruttino davvero ok cerchiamo di dare un po' di supporto a stefano utilizziamo lo zaffiro qui uh quell'anello di ghiaccio che riesce a buttare giù l'uscio nel momento in cui sta utilizzando l'atinate utilizza il lord nado per cercare di dare una via di fuga a ex e mi sa che alla fine ci sono riuscito di utilizzare l'immobilizzazione lì nel mezzo stefano un pochettino con pochi hp ma sta bene perché sono riuscito a rimetterla a posto direi che per questo talento vado per le pozioni del ripristino in pratica le nostre pozioni adesso potranno curare anche ad area che è fantastico per questi choc ovviamente le cure saranno leggermente più bassine del 30% ma possono essere possono fare anche abbastanza bene uh utilizzo il cubo lo rallento nice il dunk è tornato al momento più che giusto ok siamo riusciti a fare questa maledizione la partita è abbastanza equilibrata alla fine push su più lane dovevamo fare però mi sa che pusheremo intanto tutti insieme qui e poi andremo in qualche altra lane vediamo se provo a prendere l'uso anche se è troppo veloce comunque lo skishot ci mette un po' di tempo come non detto vediamo se possiamo fare pressione nella mid lane adesso potrebbe essere una buona idea anche perché loro sono un po' separati magari potremmo controllare che non stiano facendo questo campetto per puro caso no non lo stanno facendo comunque abbiamo 30 secondi la mia posizione è stupida non lo fate assolutamente vediamo purtroppo zagara non è cascata nel mio tranello tra virgolette ex facendo anche lui il giro che non conviene fare mi sa che ne sta pagando anche le conseguenze oh l'ornado qui cerchiamo di sopravvivere a questo engage e bene si ha funzionato alla grande lì c'è anche il qualcuno di noob quindi cerco di immobilizzare zagare non riesce a fuggire nice siamo riusciti anche a prendere questa kill abbiamo i minion qui nel mezzo quindi possiamo tranquillamente approfittarne vediamo posso usare uno zaffiro per tentare di creare una via di fuga prova a immobilizzare nice ok l'uso quello più veloce tra virgolette negli inseguimenti quindi va bene così lì c'era una pozione che era rimasta prenderò la fonte e siamo a posto buon dunk ottimo dunk allora vediamo la prossima cosa che possiamo fare sarà questo campetto di mercenari faremo il livello 16 a breve quindi voglio prendere l'ex da namig un attimo i nostri avversari staranno facendo questo campetto e anche quest'altro immagino se sono furbi invece mi sa che non stanno facendo niente di tutte e due le cose strano a livello 16 andrò per forza dell'unione praticamente il mio tratto viene potenziato ancora di più se almeno tre eroi alleati sono vicini forza dei fedeli fornisce 10 resistenza aggiuntiva e il tempo di recupero dell'abilità base di decad scorre più velocemente del 50% quindi significa che avrei un cooldown ancora più basso delle mie abilità che non è mai male attenzione al fear perché me lo aspetto un bel po' quindi cerco di stare separato preparo lo zaffiro perché magari vogliamo pensare a fare qualcosa però non abbiamo attualmente i nostri dps il dunk intanto riesce a fare un buon danno all'usio e company bellissimo questo balzo l'altime mette da parte di zaria lui si utilizza la sua altima però adesso sono io col mio lorneto che provo a rimetterli un pochettino fuori posizione però non ci sono riuscito bene non mi è riuscita la cosa come volevo effettivamente ma siamo comunque riusciti a prendere la kill su su joanna però ancora il fight ne è finito l'anello di ghiaccio riesce a bloccare praticamente tutta la squadra avversaria si può dire anche se non del tutto però fate finta che si erano stati tutti bloccati zaria col mezzo prinzi si butta lì nel mezzo e riesce a impedire a quello che avevo detto prima cioè il mezzo di rimanere in vita anche se in realtà il nome è zaria però quello per me è un mezzo ok adesso siamo ridotti un pochettino maluccio però potremmo anche fare questo boss nel frattempo che qualcuno prende il il tributo oppure non lo so possiamo direttamente fare il boss senza troppi problemi cioè Descartes per curare il boss è fenomenale soprattutto con il talento poi a livello 20 potrebbe anche farlo da solo certo dopo tipo 85 minuti però ce la può fare non voglio provarlo qui perché sinceramente è davvero deprimente davvero molto deprimente come cosa abbiamo preso il boss che poi questo tributo è a bot vorrei controllare un attimo questa zona perché potrebbero sfruttare gli assediatori per difendere da questo push che vogliamo magari pensare di fare invece direi che faremo secchi questi cose e ce li prenderemo noi ovviamente Zarya ha controllato lì sta lanciando un pochettino di bombe giusto per cercare di spaventarci o comunque avere un po' di visione il danno viene stordito però ovviamente non possiamo fare nulla per il momento il cancello è qui un altro tributo ovviamente bisogna vedere un pochettino come risponderanno esattamente i nostri abbristagli sono tutti e cinque qui quindi posso usare Zaffiro stiamo a buttarlo lì nel mezzo abbiamo rallentato un bel po' viene mobilizzata intanto Zarya dal boss e viene anche stordita quindi è un'occasione per fare la kill qui Stefano un bel po' nei guai cerco di usare l'ornedo per mandarli via e dargli una via di fuga a Stefano se ho riuscito a distruggere la fortezza questo push potrebbe essere fenomenale cooldown nel Cocoon cerco di rimanere vicino ai miei compagni di squadra per avere più resistenza e anche più riduzione ai tempi di recupero se Fano ho sbagliato lì contro Udano cerco di curare oh no cerco di buttare qualche cura qui su X con Egeina sarebbe bello poter arrivare a livello 20 con questa partita potremmo anche ok mi sa che ci vogliamo ritirare invece il tributo intanto è operativo ancora e abbiamo Asmon a me che sta andando a prenderlo cosa è che cosa è volato esattamente dei vasi roba del genere ok riusciremo a prendere probabilmente questo tributo esattamente e quindi adesso abbiamo qualche buona possibilità di approfittare del vantaggio che abbiamo a livello 20 andrò per fiasca senza fondo in pratica le pozioni responeranno dopo quanto? 6 secondi sul punto in cui sono state lanciate ovviamente possono essere riposizionate senza problemi però è molto buona per questi fight che stiamo preparando ci sono ben 3 pozioni lì ragazzi vogliono provare per forza a fare questo boss quindi voglio posizionarli un po' più avanti Stefano purtroppo viene anche combo combato dal boss e siccome sono anche abbastanza vicini tra loro posso posizionare molto bene il tutto oh provo un buon lornedo qui speriamo che ho utilizzato o come l'impressione di non esserci riuscito però uh il dunk riesce a fare molto il danno a dare stiamo resistendo per non so quale virtù esattamente però ci stiamo riuscendo ci sto buttando pozioni a nastro un pochettino nei guai non riesco a curarlo il cubo rallenterà ulteriormente i bersagli e qua il body block infine su Giovanna metterà a fine a questo fight potremmo anche andare a vincere volendo abbiamo un po' di tempo perché no volete fare il boss oppure vogliamo andare direttamente a vincere bisogna vedere ragazzi cosa vogliono fare io personalmente andrei a vincere anche perché dopo un fight del genere non c'è male inoltre sono anche riuscito a superare l'uso in cure attualmente e mi devo ritirare oh non vogliamo vincere direttamente ok va bene va bene ho capito ci può stare dai vogliamo fare un po' più exp e facciamola a parte il mio pathfinding che si rifiuta di farmi passare dal lato sicuro inoltre qua abbiamo distrutto questo cancello possibilmente potevamo anche distruggere il cancello di bot e andare diretti al core poi da lì però vabbè qui come c'è ragazzi non è ranked non stiamo super tryhardando cioè io un pochettino sì perché sto cercando di rimanere concentrato però mettiamo un pochettino di pozioni qua a destra e sinistra giusto per averle in posizione per il fight con l'ultimate immobilizzato intanto zagara che verrà buttata giù al 100% intanto zaria cerca di attaccare asmodan però letteralmente non ci sta facendo quasi nulla nonostante l'energia sarebbe abbastanza carica lucio ora potrebbe liberarsi eccolo qui ho sbagliato un po' il timing vediamo se posso fargli uscire dalla base o comunque posso fare qualcosa di praticamente stupido l'altra fortezza è andata giù e abbiamo vinto la partita GG va bene ragazzi uh non male non male questa è stata una buona partita con Deckard per me personalmente credo di averla giocata abbastanza bene però il gioco si rifiuta di darmi proprio l'MVP anche se comunque Stefano con la Nubarak ha fatto il putiferio dei danni niente male davvero come partita beh almeno ci sono per come inibitore buono consiglio 84k di cure maggiore a montare di expo incredibile ho superato i 4k all'usio non male non male non sono nemmeno morto quindi non mi posso assolutamente lamentare ok ragazzi quindi questa era un po' una delle prime partite tra virgolette che ho fatto con Deckard l'ho appena portato a livello 4 quindi ancora sono molto lontano dalla prenderlo del tutto possibilmente l'ho fatta diventare quasi una guida volendo però non del tutto perché penso sarei voluto essere un po' più specifico ad esempio potevo utilizzare i venti di saggezza per qualcos'altro però magari lo lascerò per una guida futura comunque la build che ho utilizzato in questa partita è a livello 1 zaffiro a livello 4 pozione del rinvigorimento a livello 7 cubo di canai livello 10 venti di saggezza livello 13 pozione del ripristino livello 16 forza dell'unione e livello 20 fiasca senza fondo va bene ragazzi direi che per il momento può bastare così spero che vi sia piaciuto comunque come video e spero che vi piaceranno poi più avanti i prossimi quick match direi che per il momento da Xavion è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao